Buongiorno a tutti e benvenuti o bentornati per quella che è l'ultima lezione del nostro corso Bitcoin and Blockchain Technologies. Questa lezione fa il paio con la lezione precedente che nell'agganciarsi sostanzialmente all'introduzione da cui siamo partiti, dalla prima lezione da cui siamo partiti, perché di fronte al quadro di insieme fatto nella prima lezione, nella scorsa abbiamo affrontato più in dettaglio gli impatti proprio in termini di politica monetaria, di storia della moneta che Bitcoin potrà avere o forse addirittura già sta avendo, mentre oggi ci occupiamo delle applicazioni non monetarie di questa tecnologia. In mezzo tra l'introduzione e queste ultime due lezioni sono state delle lezioni di contenuto strettamente tecnico, tecnologico, che in qualche modo dovrebbero permettervi di affrontare o di cogliere in queste ultime due lezioni finali lo spessore, la portata di certe affermazioni in una maniera a questo punto più fondata, più cosciente, mentre nell'introduzione evidentemente avete dovuto darmi del credito sul fatto che quello che dicevo era ragionevole, si spera che in queste ultime due lezioni e in questa in particolare possiate apprezzare il fatto che i giudizi non sono partigiani o faziosi ma sono strettamente tecnici basati su quello che nelle quattro lezioni tecniche abbiamo approfondito assieme. E allora il giudizio in qualche modo è già accennato dal titolo Bitcoin, Blockchain e Distributed Ledger Technology, quella che viene chiamata DLT, hype or reality? Perché evidentemente c'è in questo ambito moltissima hype. E allora vedremo, oggi sostanzialmente ripercorriamo velocemente se è possibile una blockchain senza bitcoin, cose che abbiamo già accennato nella lezione introduttiva ma che qui rivedremo velocemente, per poi concentrarci sulla relazione di fascinazione che la finanza ha nei confronti della blockchain e poi direi timestamping, notarization e anchoring che è uno dei messaggi fondamentali di questo corso, un accenno a cosa siano gli smart contract e una chiusura su DLT, Distributed Ledger Technology, quella che io chiamo una chimera, cioè una cosa che per ora sicuramente non esiste, ma sebbene tutti ne parlino. E allora sempre qui bisogna ritornare a questa infausta copertina dell'Economist che dice che la blockchain e non bitcoin sarà rivoluzionare in finanza, copertina su cui non ho mancato di manifestare il mio scetticismo se non addirittura la mia contrarietà. L'Economist cade nella trappola in cui cadono in tanti perché bitcoin è difficile da capire, ci siamo detti che bitcoin è complesso perché casca all'incrocio di aree culturali, tematiche, scientifiche che di solito non hanno sovrapposizione, quindi game theory, criptografia, computer networking and data transmission, economic and monetary theory. bitcoin non è una tecnologia ed è per questo che tendenzialmente io non amo parlare di blockchain technology, ma è bensì un cambiamento di paradigma culturale, è il paradigma culturale della decentralizzazione. Tant'è che in tanti dicono che di questa blockchain dovrebbe apportare cambiamenti epocali nel mondo della finanza e dei servizi finanziari, ma pochi sanno dire esattamente perché o come, e pochi lo sanno dire perché pochi in realtà queste materie le hanno capite e quindi di solito sono esercizi di marketing più o meno spinto. Cos'è la blockchain? Beh si spera che a questo punto del corso ormai sia chiaro tecnicamente a questa audience che la blockchain è una linked list di hash pointer, ma al di là di questa definizione estremamente tecnica è sostanzialmente una struttura a pendoli sequenziale in cui un nuovo blocco può essere appeso come in una catena, solo in coda. E l'idea è che questa è una catena sequenziale in modo tale che se si volesse cambiare un blocco al centro della catena, sganciare quel blocco dalla catena comporta la riscrittura non solo di quel blocco ma anche di tutti i blocchi successivi. E quindi una struttura dati straordinariamente inefficiente se la compariamo con un database relazionale. E i database relazionali in questa lezione vedrete che spunteranno, tireranno fuori la loro testolina molto molto spesso. Abbiamo imparato che i blocchi di questa catena sono sostanzialmente dei blocchi che contengono transazioni, perché la blockchain è una specie di registro pubblico distribuito di transazioni, che viene massivamente duplicato dai nodi del network e sostanzialmente condiviso come singolo file in un protocollo che per certi aspetti potrebbe ricordare veramente il protocollo BitTorrent. Mentre BitTorrent consente di condividere un qualunque file, Bitcoin, il protocollo Bitcoin, consente di condividere quell'unico file che è il registro pubblico delle transazioni. Questo file può essere aggiornato da tutti i nodi della rete se sono disponibili a fare un certo lavoro, lavoro specialistico che oggi è diventato sempre più impegnativo e che quindi in qualche modo compete a quei nodi particolari che chiamiamo miners, che aggiungono periodicamente ogni circa 10 minuti un nuovo blocco alla catena. Sostanzialmente i nodi della rete Bitcoin sono come un grande, gigantesco distribuito back office. Infatti è veramente difficile capire il fascino che il mondo della finanza prova per queste tecnologie quando di solito disprezza profondamente tutte le tecnologie che riguardano il back office. Sì è un back office perché questi nodi non fanno altro che validare e quindi clearare ed eventualmente quando se ne fa il mining abbiamo accennato il settlement, si fa il settlement in queste transazioni. Coloro che svolgono il lavoro necessario per la finalità delle transazioni sono appunto questi miner e raggiungono il consenso sulla storia delle transazioni, l'oro e tutti i nodi del network con una strategia particolare. Sì perché abbiamo detto che raggiungere il consenso in un network asincrono distribuito in cui anche uno solo dei nodi possa essere malevolo o malfunzionante è un risultato positivo di teoria computer science, di informatica, il fatto che il consenso non possa essere raggiunto. Si tratta del problema dei generali bizantini. Ma allora come viene raggiunto il consenso da Satoshi Nakamoto? Satoshi Nakamoto ottiene il consenso sostanzialmente con uno stratagemma da teoria dei giochi, cioè utilizzando uno straordinario incentivo economico affinché i nodi siano onesti e questo incentivo economico riesce a ottenerlo, riesce ad utilizzarlo perché ha a sua disposizione le risorse di signoraggio, cioè quella gigantesca quantità di ricchezza che deriva dal poter battere moneta. Ora, se abbiamo una blockchain senza bitcoin è una proposizione che in qualche maniera è claudicante perché se non abbiamo bitcoin non abbiamo l'asset digitale nativo con cui poter remunerare i nodi della rete, i minatori che validano le transazioni, dobbiamo quindi ricorrere a degli ufficiali validatori delle transazioni, cioè a qualcuno che venga in qualche maniera ufficialmente incaricato di validare le transazioni. Perché non abbiamo più la coda alla porta di nodi anonimi che bussano e chiedono di poter validare le transazioni perché hanno un forte incentivo economico, di conseguenza dovremmo assumere qualcuno per fare questo lavoro. Ma se abbiamo un'autority centrale che assume i validatori e li incarica formalmente di questo ruolo, beh per quale motivo quest'autority centrale debba usare una blockchain, cioè una struttura dati subottimale invece di un database, è assolutamente non chiaro. e questa domanda è una domanda che resta senza risposta, è una domanda che posta sotto la forma di affermazione provocatoria, una blockchain ha bisogno di un asset digitale nativo altrimenti non esiste, in un'intervista che ho rilasciato giugno dell'anno scorso, un anno esatto da oggi più o meno a Finextra che è il sito web che si occupa di pagamenti e questo video è diventato nel 2016 il video più visto di Finextra. Proprio perché semplici affermazioni che spero appunto alla fine di un corso come questo per voi risultino ovvie, vi garantisco che nel mondo finanziario sono considerate come delle affermazioni dirompenti perché non le dice nessuno. Abbiamo chiarito, si spera abbondantemente durante il corso e soprattutto con l'ultima lezione, il fatto che Bitcoin è speciale perché in ambito digitale rappresenta un asset scarso, un bene scarso come nulla prima di lui, è un bene che può essere trasferito ma non duplicato in termini tecnici, che può essere speso ma non doppio speso. Questo lo rende in qualche modo l'equivalente digitale dell'oro ed è questo il brillante straordinario contributo di Satoshi Nakamoto, non certamente la blockchain, cioè questa povera meschina struttura dati sequenziale molto primitiva. Allora dopo questo veloce recap di punti che in qualche modo abbiamo già visto, affrontiamo i contenuti nuovi della lezione e partiamo appunto dal fascino che il mondo finanziario e dei servizi finanziari sembra mostrare per la blockchain. Ma perché la finanza è affascinata dalla blockchain? Beh perché sulla blockchain, sulla blockchain di Bitcoin le transazioni sono immediatamente validate, tutti i nodi della rete le validano e nel validarle le fanno il clearing, cioè verificano che chi vuole trasmettere quei Bitcoin li abbia effettivamente nel suo legittimo possesso e vengono poi finalizzate, settled, rapidamente, subito dopo, da quei nodi speciali che garantiscono appunto che sia evitato la doppia spesa. Tutto questo in maniera più o meno automatica senza un'autority centrale. E beh questo vi garantisco che al mondo della finanza fa molta molta gola. Perché qui vedo alcuni dei miei studenti del corso di derivati su tassi di interesse e sono tutti abituati al fatto che le transazioni hanno due giorni valuta. In finanza qualcuno di voi conosce una transazione che invece è istantanea, che non ha due giorni valuta? Bene io posso dirvi che l'unica transazione nel mondo finanziario ad avere le caratteristiche di settlement istantaneo è la transazione in contanti. Se io do a lei 5 euro, il gesto di tirare fuori e di porgerle 5 euro innanzitutto costituisce la transazione, il clearing è immediato perché lei verifica che io quei 5 euro li ho davvero e il settlement è istantaneo perché lei se li prende e li mette nel suo portafoglio. Questa è l'unica transazione finanziaria che abbia delle caratteristiche di istantaneità e che venga appunto validata, clearata e finalizzata automaticamente senza una controparte centrale. Ed allora ecco che la finanza dice, caspita che bello sarebbe se anche a livello elettronico, se anche a livello digitale potessimo raggiungere queste efficienze. Ma è un falso problema perché in realtà noi abbiamo già transazioni finanziarie che si svolgono in nanosecondi. Se voi pensate al trading azionario, al trading su equity, al trading algoritmico in particolare, abbiamo transazioni che avvengono in nanosecondi. Beh però il problema è che alla fine della giornata per farne il clearing e il settlement ci vogliono circa 3, 2, 1 giorno. Quindi transazioni istantanee nella loro attuazione, nel loro inizio e che durante la giornata avvengono a milioni, vengono poi nettate, clearate e settled in 2-3 giorni. Perché questo? Beh evidentemente non è un problema tecnologico. Il problema è organizzativo, è procedurale e perché in finanza il consenso sulla storia delle transazioni è un consenso che potremmo definire consensus by reconciliation. È un consenso che si ottiene riconciliando fonti dati indipendenti. Ogni banca, ogni clearing house, ogni attore di mercato ha il suo database e alla fine della giornata attiva dei processi di riconciliazione con i database, con le fonti dati delle altre controparti, delle controparti centrali, per verificare di essere tutti in accordo su che cosa è successo durante la giornata. Ma si tratta fondamentalmente di un sistema di checks and balances, cioè di controlli che permettano agli attori di mercato, in particolare ai regolatori, di fare l'enforcement delle prescrizioni, delle correzioni, delle restrizioni. Se per esempio il sottoscritto volesse acquistare il 25% di Fiat Chrysler, data la mia notoria grande disponibilità finanziaria, è evidente che la SEC busserebbe alla mia porta e mi direbbe che oltre una certa quota di controllo è necessario fare un'offerta pubblica di acquisto che coinvolga tutti gli azionisti. Quindi ci sono delle transazioni finanziarie tecnicamente possibili ma che vanno inquadrate, vanno controllate, vanno monitorate e soltanto a valle di questi controlli la transazione sarà in qualche maniera finale perché ad esempio legittima. Inoltre per quello che riguarda il settlement istantaneo, quest'altro mito del trading, abbiamo già visto che appunto il trading è istantaneo ma il settlement non lo è. Bene, ma se il settlement fosse istantaneo e quindi io potessi trasmettere il mio pacchetto di controllo di Fiat Chrysler in un nanosecondo e un nanosecondo dopo viene trasmesso a qualcun'altro e quindi un secondo dopo abbiamo avuto magari un milione di passaggi di proprietà, se poi queste transazioni fossero tutti finali e la SEC dovesse scoprire che io in realtà non avevo il titolo, non avevo la legittimità dalla mia parte nel fare quel trasferimento, come si fa a fare quello che praticamente si chiama l'unwinding, cioè il rollback, la cancellazione di milioni di transazioni, è sostanzialmente impossibile. Non ci sarebbe quindi spazio per un meccanismo di ricorso. Inoltre se noi avessimo settlement istantaneo non sarebbe possibile andare a leva, non sarebbe possibile andare corti, il netting delle operazioni non sarebbe possibile. Insomma, il settlement istantaneo è qualcosa che probabilmente il mondo della finanza non vuole e che se anche volesse bisogna rispondere sempre a una vecchia domanda. Siccome questi cambiamenti tecnologici, organizzativi, procedurali comportano dei costi, chi li paga? Perché tutto sommato c'è la necessità che qualcuno ne tragga veramente un beneficio così grande da decidere, lui, di coprire i costi di questi cambiamenti. Allora si dice, beh, però sarebbe molto bello se ci potessimo liberare delle banconote, delle monetine e avere moneta di banca centrale su un ledger, la cosiddetta Central Bank Digital Currency. E sì, perché voi sapete che il saldo del vostro conto corrente non è Central Bank Money, non è moneta di banca centrale, il saldo del vostro conto corrente è una promessa di pagamento che una banca commerciale vi fa, che se vi presenterete ai suoi sportelli, lei è disponibile, sarà disponibile a restituirvi quel saldo in moneta di banca centrale. Ma noi come utenti retail, l'unico accesso che abbiamo alla moneta di banca centrale sono le banconote e le monetine. Bene, Mike Carney, governatore di banca d'Inghilterra, dice con chiarezza, con un certo eufemismo inglese, con un certo stile inglese, che certamente se dessimo alla clientela retail accesso a moneta di banca centrale e quindi tutti noi potessimo avere i nostri risparmi presso una banca che per definizione non può fallire, beh, sarebbe molto difficile capire per quale motivo dovremmo detenere questi risparmi presso banche commerciali che invece potenzialmente possono fallire. Ecco che quindi dice sostanzialmente che fornire accesso a una moneta di banca centrale elettronica sarebbe disastroso per il sistema commerciale delle banche. E non lo dice soltanto il governatore di banca d'Inghilterra nel giugno 2016, ma proprio qualche giorno fa, Weidmann, il presidente della Bundesbank, la banca centrale tedesca, ha ripetuto sostanzialmente lo stesso concetto. Quello che sarebbe una benedizione per i risparmiatori sarebbe un disastro per le banche. Quindi non aspettiamoci una moneta di banca centrale elettronica che arrivi al più presto nei nostri smartphone. È sostanzialmente impossibile. E però avere cash on the ledger, avere una moneta sulla blockchain è necessario. E sì, perché appunto il mondo della finanza è spaventato da bitcoin. Quindi la blockchain sì, la tecnologia dietro la blockchain sì, ma bitcoin no, perché bitcoin non è controllato, non è controllabile, la moneta del deep web, ne abbiamo già parlato, quindi quella lì non si può toccare. Ma allora dateci degli euro e dei dollari sul ledger. Abbiamo visto che le banche centrali non lo possono fare, ma eppure cash on the ledger è fondamentale per quello che in mondo della finanza viene chiamato delivery versus payment. È soltanto a fronte di un pagamento che io consegno il bene che ho venduto. Allora immaginatevi che su una blockchain vengano per esempio scambiate con transazioni a settlement istantaneo, quindi finali e non reversibili, le azioni di un certo mercato azionario. E però dall'altro lato non c'è sullo stesso ledger la possibilità di pagare e quindi i pagamenti avvengono attraverso il sistema bancario tradizionale a T più 1, T più 2, se non addirittura T più 3. E cosa succede se il pagamento si blocca? Perché non ci sono i fondi? E invece la vendita delle azioni è stata finale? Finalizzata e quindi non reversibile? È chiaro che delivery versus payment è imperativo per applicazioni di scambio su tecnologia blockchain e quindi il cash on the ledger serve. Abbiamo detto non lo daranno le banche centrali, chi potrebbe darlo? Beh, certo potrebbe darlo l'IMF, l'International Monetary Fund. Immaginate l'IMF che emetta un suo bitcoin, un IMF sponsor bitcoin. O dite, è strano, beh mica tanto. Dal 1969 l'IMF ha emesso degli asset sintetici che si chiamano Special Drawing Rights, diritti speciali di prelievo. Rappresentano proprio un asset sintetico che il Fondo Monetario Internazionale promuove come asset di riserva per le banche centrali, visto che l'oro non va più di moda e il dollaro come asset di riserva gode un ruolo di privilegio che si vorrebbe limitare. Ma alla fine questi Special Drawing Rights hanno avuto una certa applicazione ma non sono mai realmente decollati. Sapete perché? È proprio perché il dollaro non vuole perdere il suo ruolo privilegiato di asset di riserva. E questa è fondamentalmente la ragione per cui è difficile immaginarsi un IMF emettere cash on the ledger, ma allora lo faranno delle iniziative private? Beh, peccato che i consorzi che vedremo più avanti in questa lezione impegnati sulla tecnologia blockchain nella stragrande, nella totalità anzi direi, non hanno mai messo cash on the ledger tra le loro priorità. Ecco che quindi cash on the ledger resta fondamentalmente una grandissima opportunità per un network di banche commerciali che possano fornire una rete gratuita istantanea peer-to-peer di pagamenti. E qualche banca commerciale lo sta effettivamente pensando o pianificando. Per i miei studenti che hanno fatto il corso di derivati su tassi di interesse magari avrete letto in giro che le applicazioni della blockchain per il clearing dei derivati sono straordinarie. Ma gli straordinari hanno soltanto il livello di implausibilità e di bufala mediatica che rappresentano. Questo perché se vi ricordate qualcosa del fatto che c'è un collateral depositato a garanzia e vi ricordate il fatto che il calcolo a fine giornata di quale sia il collateral da aggiungere o da togliere è un calcolo che ha una certa complicazione, bene, non si capisce bene in una tecnologia blockchain chi dovrebbe fare questi conti, quale incentivo economico avrebbe nel fare questo investimento computazionale per dirci qual è l'adjustment di collateral che dobbiamo postare a fine giornata. In un mondo della finanza che addirittura non si è ancora messo d'accordo su quali modelli utilizzare per il calcolo del collateral e quindi ci sono spesso negoziazioni diventa difficile capire come questo potrebbe automatizzarsi magicamente. Inoltre c'è il cosiddetto variation margin cioè il margine che alla fine della giornata per effetto del trading dobbiamo incassare o depositare sul conto di garanzia. Certo, se lo facciamo con un accesso programmatico ai pagamenti beh, vi garantisco che automatizzare un accesso programmatico ai fondi di una banca per effettuare pagamenti è un'attività straordinariamente rischiosa con dei rischi operativi molto, molto, molto gravi. Non è difficile immaginare perché e quali e quanti frodi potrebbero inserirsi in automatizzazione algoritmica di questi pagamenti. Inoltre il fallimento di una controparte lascia sempre aperto 4-5 giorni in cui per sostituire quella controparte sul mercato siamo soggetti esposti alle variazioni di valore del nostro portafoglio. e quel rischio lì non è che magicamente la blockchain lo fa sparire. Quindi comunque ci sarebbe necessario sarebbe, rimarrebbe necessario accantonare quello che tecnicamente viene chiamato il margine iniziale. Quindi quando vi dicono la blockchain potrebbe ridurre o cancellare la necessità dei margini non si capisce bene perché. Ma va bene probabilmente molti dei commenti di quest'ultimo punto erano tecnici soltanto per coloro che si muovono sul mercato della finanza. Torniamo a cose che tutti possono capire. Ah, la blockchain però permette transazioni gratuite o a costo straordinariamente basso. Chi ha seguito il corso sa benissimo che tutto questo non è affatto vero. Non è vero perché la blockchain ha un costo la blockchain di bitcoin ha un costo diciamo relativamente basso per transazione soltanto perché le rendite di signoraggio coprono sostanzialmente i costi della rete. Se noi prendessimo le transazioni che avvengono sul network bitcoin e dividessimo i costi complessivi di gestione del network bitcoin come misurati sostanzialmente dalle rendite di signoraggio che vengono erogate diviso il numero di transazioni vedremo che ogni transazione vale tra i 5 costa al sistema tra i 5 e 10 dollari quindi è tutt'altro che economica è straordinariamente cara perché? Perché finora forme più economiche di consenso rispetto al Nakamoto consensus rispetto al consenso inventato da Sottoshi Nakamoto non sono ancora state realmente realizzate o efficacemente messe in produzione. addirittura qualcuno parla di consenso bilaterale che si potrebbe raggiungere tramite firma digitale cioè capite qualcuno spaccia per consenso distribuito quella che è semplicemente la firma digitale di un documento che è stato che era una volta cartaceo e che oggi è stato digitalizzato. Quindi cose veramente ridicole che è ridicolo definire innovative o dirompenti e che in ogni caso hanno dei costi significativi di integrazione nelle strutture esistenti. Ma allora almeno qualcosa il professore Ametrano ce la lascerà sopravvivere di questo fascino ed è il punto del singolo registro distribuito. Ecco guardare a un'unica fonte dati guardare a un ledger un libro mastro di riferimento perlomeno dovrebbe permettere a tutti i nodi a tutti gli attori di evitare i costi di riconciliazione. Questa fondamentalmente è la bottom line all'ultimo la sintesi più estrema di ciò a cui si guarda con grandissima aspettativa ed attenzione. Beh anche qui ci sono però alcuni commenti problematici da fare perché se non c'è un'autority centrale che gestisce le priorità tra degli aggiornamenti di questo registro che siano conflittuali come facciamo a gestire questi conflitti qual è il modello di consenso di nuovo con cui possiamo risolvere le vertenze tra aggiornamenti conflittuali del registro e inoltre se questo sicuramente non possono essere accordi bilaterali e se questo registro deve in qualche maniera essere centrale e quindi affidiamo a qualcuno la risoluzione di questi conflitti beh insomma torniamo all'idea di un amministratore centrale che può tranquillamente questo registro tenerlo su un database otto abbiamo di nuovo un database administrator che semplicemente ad alcuni utenti potrebbe dare dei privilegi limitati di scrittura e cosa succede soprattutto se noi accettiamo l'idea di avere un unico registro di riferimento facciamo un attimo lo sforzo logico di capire che se questo registro venisse hackerato se questo registro venisse illegittimamente modificato siccome è l'unica coppia di riferimento non c'è la possibilità di dire le modifiche sono illegittime perché non c'è un'altra istanza di quel registro che io possa opporre validamente se il registro condiviso è l'unico valido qualunque modifica entra lì dentro che sia legittima o illegittima diventa assolutamente normativa non ho più gli strumenti per contestarla e quindi immaginate un mondo in cui un hacker che trovasse una falla nel registro pubblico distribuito potesse cambiare la storia transazionale o manipolarla a suo piacimento senza che le legal entities coinvolte le quali sì stanno risparmiando sui costi di riconciliazione però di fatto dovrebbero essere sottoposte all'arbitrio totale del manipolatore del registro assolutamente implausibile ed improbabile per il mondo finanziario e si dice sì però tutte queste innovazioni per essere efficacemente testate hanno bisogno di un nuovo ambito regolamentare ma qui non si capisce bene perché perché i registri distribuiti pubblici e permissionless come bitcoin non chiedono assolutamente di essere regolamentati anzi guardano la regolamentazione in generale con un certo fastidio i registri privati e permissioned dove cioè un'authority centrale che decide chi può accedere al registro o meno chi può modificare il registro chi può leggere il registro beh quelli lì si spera che siano costruiti dall'inizio in accordo con i quadri regolamentari esistenti no? i regolatori dovrebbero quindi esaminare le DLT i Distributed Ledger Technologies alla luce della regolamentazione esistente anche perché regolamentare in anticipo questo nuovo settore quando questo nuovo settore non esiste ancora non esiste una singola applicazione di Distributed Ledger o di Blockchain in produzione da qualche parte o che abbia una rilevanza per un qualsiasi business e quindi come facciamo a regolamentare cosa regolamentiamo? regolamentare in anticipo è soltanto pericoloso e rischia oltre che essere problematico di sostanzialmente soffocare la reale innovazione insomma la necessità di una regolamentazione ad hoc non è evidente e non c'è stata nessuna richiesta motivata per questa cioè fa parte di questo dibattito assolutamente etereo assolutamente infondato per cui tanti regolatori si stanno preoccupando di regolamentare cose che non c'è nessun bisogno di regolamentare perché l'attuale regolamentazione va più che bene ma allora dopo tutta questa parte d'estruence che chiaramente vi dice qual è il mio orientamento culturale in questo dibattito lasciamo lo spazio per una parte construence sì esistono applicazioni non monetarie della blockchain che sono rilevanti e guarda caso sono quelle più neglette e meno comprese nel dibattito pubblico sono quelle che vanno sotto il nome di timestamping o più in generale di notarizzazione o in termine tecnico anchoring ancoraggio cos'è il timestamping la notarizzazione e l'ancoraggio beh allora partiamo da un fenomeno di costume partiamo da qualcosa di simpatico non straordinariamente rilevante vi ricorderete quando abbiamo affrontato i tecnicismi delle transazioni bitcoin che abbiamo discusso del cosiddetto hop return cioè della possibilità di un operatore che rende la transazione bitcoin da un certo punto di vista non spendibile quindi crea dei transaction output delle banconote digitali che non sono spendibili e che quindi siccome si può provare che non sono spendibili vengono rimosse dal database delle banconote spendibili e cosa fa questo hop return oltre che rendere non spendibili delle banconote beh il trade off è che consente all'utente che ha effettuato quella transazione di aggiungere dei dati una certa quantità di dati ed ecco che allora nella blockchain entra una transazione con una certa quantità di dati arbitrari che io posso comporre a mio piacimento per che cosa? per dei graffiti su un muro che è il muro della blockchain che quindi promette di essere eterno quindi posso fare una dichiarazione d'amore a mia moglie posso ricordare un evento o posso scherzosamente aggiungere delle frasi sì con hop return sulla blockchain di bitcoin io posso scrivere tante diverse cose provate a guardare il sito di eternity wall che per primo ha lanciato proprio l'idea di scrivere sulla blockchain di lasciare come dei graffiti usando l'hop return ma a questo utilizzo giocoso non deve fare velo al fatto che hop return consente di utilizzare la blockchain come registro immutabile per cose ben più interessanti e sfidanti si parla sostanzialmente del time stamping l'idea non vi è nuova l'idea del timbro postale che del timbro ad esempio postale che può essere apposto a un documento marcandone con certezza e con sicurezza la data bene sappiamo che la legge richiede che alcuni di questi timbri alcune di queste date siano se il documento è particolarmente rilevante certificate da ufficiali pubblici o da servizi di notariato e per documenti digitali il time stamping si basa fondamentalmente su firma digitale cioè esistono degli enti certificatori delle date di marcature temporali che appongono una marcatura temporale su un documento digitale attraverso la loro firma sono ovviamente delle certification authority bene si può fare time stamping sulla blockchain come si fa? immaginiamo di avere un generico file di dati può essere un file di testo possono essere i diversi terabyte di un database relazionale e abbiamo una nostra blockchain che è iniziata qualche tempo fa e che è arrivato al suo ennesimo blocco bene io posso come abbiamo visto nella seconda lezione calcolare tramite una funzione di hash l'hash value corrispondente a questo data file cioè l'impronte digitale univoca che è un numero qui riportato per esempio in alfa e in esadecimale è l'impronte digitale univoca che deriva da questo file di dati che non mi consente di ricostruire questo file di dati ma ogni file di dati ha un'impronta digitale univoca proprio come avviene tra il DNA di un essere umano e la sua impronta digitale bene a questo punto questa impronta digitale può essere associata a una transazione bitcoin il cui amount è irrilevante l'ammontare della transazione medesima è irrilevante e quindi nel registrare la transazione in un certo blocco della blockchain quello che otteniamo è che abbiamo depositato sulla blockchain dietro un hop return sostanzialmente questo hash value a questo punto l'immutabilità della blockchain che viene rafforzata quanti più questo blocco viene affogato da altri blocchi l'immutabilità della blockchain fornisce di fatto a questo file di dati una marcatura temporale indelebile che in futuro in qualunque momento del futuro potrà dimostrare che quel dato esisteva in quella forma in quel momento del tempo bene timestamping è quindi una forma di notarizzazione è come se io avessi depositato il documento presso un notaio ma è ancora più interessante perché badate che il documento non è stato depositato sulla blockchain il documento non diventa pubblico ma è solo l'hash value è solo l'impronta digitale del documento che è stata depositata sulla blockchain e che ha ottenuto la marcatura temporale quindi ho una marcatura temporale del documento di origine senza aver rivelato il documento di origine senza averlo neanche fatto vedere per un istante a quel notaio o a quell'ufficio postale quindi con una grande sicurezza rispetto della privacy inoltre non è che ogni documento ogni singolo documento richiede una transazione bitcoin per essere notarizzato perché come abbiamo imparato nelle strutture di hash pointer abbiamo la struttura di albero binario il cosiddetto merkle tree e io posso quindi merkelizzare posso avere un albero di documenti che e quindi di hash value di impronti digitali posso prendere le coppie una coppia di impronta digitale e calcolare l'impronta digitale della coppia e quindi fare sostanzialmente una sintesi delle diverse coppie salendo verso la radice di un albero e posso poi timestampare sulla blockchain bitcoin un unico l'unica radice la singola radice dell'albero quindi sostanzialmente un numero arbitrariamente grande di documenti può essere timestampato con una singola transazione bitcoin esistono dei servizi chiamati calendar services che appunto forniscono all'utente finale questo tipo di aggregazione e l'attestazione quindi della notarizzazione questo è un processo che sta conoscendo forse dovrei dire già conosciuto ormai un processo una forma di standardizzazione parliamo di open timestamp una standardizzazione necessaria per permettere l'auditabilità da terze parti che quindi poi consenta l'utilizzo di questa marcatura temporale anche in processi tradizionali dandogli un valore regolamentare il protocollo la standardizzazione a cui mi riferisco è la transazione di open timestamps quindi il formato standard per il timestamping sulla blockchain un formato che è flessibile per tanto da essere indipendente da vendor quindi non c'è un singolo vendor commerciale che ve lo vende ma diversi vendor commerciali possono incorporarlo e che è anche indipendente dalla blockchain ovviamente adesso usiamo la blockchain di bitcoin ma possiamo anche usare la blockchain di Ethereum o potremo usare anche altre blockchain in questo momento la blockchain di bitcoin essendola più sicura è il notaio in qualche maniera più affidabile deriva da un'idea di Peter Todd uno dei core developer di bitcoin che rilanciata dall'italiano di Eternity Wall Riccardo Casatta ha ripreso piede nell'ultimo anno e ha conosciuto un grande sviluppo che sostanzialmente si basa su queste tre linee guida trust perché open timestamp usando una blockchain decentralizzata visibile a tutti rimuove la necessità di una authority fiduciaria l'architettura di open timestamp può supportare diverse sistemi di notarizzazione che possono essere incrociati i costi i costi sono bassissimi perché open timestamp scala in maniera sostanzialmente arbitraria la merkelizzazione dei documenti di cui parlavamo riesce a combinare un numero arbitrariamente alti di documenti in una singola transazione e inoltre è straordinariamente conveniente perché questi timestamp sono verificabili da terze parti istantaneamente e peraltro non richiedono neanche di attendere necessariamente la conferma della transazione bitcoin immediatamente verificabile anche se poi l'attestazione dell'ingresso nel blocco è cruciale nel tempo per la sostenibilità del valore del timestamp proviamo a guardare sul loro sito e a fare un piccolo esperimento allora se voi guardate questo documento di testo che io ho preparato in precedenza e che guarda a casa dice una frase che mi è cara bitcoin is digital gold notate che c'è un punto che termina la frase bene questo file bitcoin is digital gold lo trascino nell'interfaccia di open timestamp e immediatamente mi calcolo l'hash value che è un 610 inizia con 610 e finisce con 25 a questo punto io posso ho fatto ieri sera una notarizzazione e quindi ho ottenuto un certificato che trascino qui dentro e gli dico verifica che questo certificato di notarizzazione sia la corretta notarizzazione sulla blockchain di bitcoin di questo di quel documento di testo che dice che bitcoin è oro digitale lo verifico e la verifica ha successo bene proviamo a questo punto a cambiare questo documento per esempio togliendo il punto e ovviamente risalvando il file se io prendo il file modificato guardate ho tolto soltanto un punto e lo rimetto qui e dico voglio verificare che questa sia la sua notarizzazione e chiedo la verifica ovviamente la verifica fallisce cioè sostanzialmente aver alterato il documento anche soltanto di un punto anche soltanto di un byte ha reso un documento diverso e infatti che il documento sia diverso ce ne accorgiamo perché il suo hash value inizia con 0.41 e finisce con 20 non è più quel ripristiniamo il punto risalviamo il file ritrasciniamolo nell'interfaccia 610 e finisce con 25 perché questo qui invece se lo verifico la verifica va a buon fine allora sostanzialmente che cosa abbiamo visto in questo semplice esperimento con cui vi propongo di giocare abbiamo visto la possibilità di mettere un timbro univoco su un documento univoco bene i certificati di partecipazione a questo corso saranno esattamente dei certificati che verranno messi in questa interfaccia ne otterremo un timbro e vi verrà consegnato non soltanto il certificato digitale che dice della vostra partecipazione a questo corso ma anche il timbro univoco e incontrovertibile che dice quando avete partecipato a questo corso o perlomeno quando avete ricevuto il certificato o perlomeno quando il certificato è stato notarizzato sulla blockchain di bitcoin e questo è disponibile a tutti provate a giocarci e non fate nessun danno ai fornitori di quel servizio perché tramite le tecniche di mercolizzazione per loro timestampare un documento o timestamparne milioni ha sostanzialmente lo stesso costo lo fanno circa una volta al giorno per calendar service ora questa tecnica di timestamping di notarizzazione è straordinariamente potente per esempio sul mondo del trading nel mondo del trading esiste esistono delle prescrizioni regolamentari che dicono che la trascrizione delle transazioni quindi i registri quindi i database transazionali debbono essere archiviati su supporti write once read many cioè supporti non riscrivibili perché questo? perché quando un investigatore quando un regolatore chiede a un'istituzione finanziaria a darmi il database transazionale di due anni fa di solito si faceva dare un cd o un dvd e quindi sapeva che i dati su quel supporto erano dati che non potevano essere stati riscritti ad hoc per cancellare tracce magari di malversazioni su cui quell'autority sta proprio indagando bene ovviamente le basi dati sono cresciute nel tempo a livelli trading algoritmico sproporzionati non ci stanno più quei dati su un dvd e anche pensare di metterli su un blu-ray a un costo se voi immaginate nell'operatività di una banca o di un'istituzione finanziaria masterizzare a fine giornata un blu-ray archiviarlo fisicamente verificare che nel tempo dieci anni di conservazione non degradi e se è degradato cosa facciamo e allora ne abbiamo bisogno di due insomma grandissime problematiche bene da questo punto di vista l'adeguatezza regolamentare può essere raggiunta semplicemente prendendo il database transazionale o il backup usuale che viene fatto di questo database e timestampandolo sulla blockchain di bitcoin a quel punto quando l'autority regolamentare o la società di investigazione dovesse chiedere una copia dei dati a due anni fa l'istituzione finanziaria darebbe un semplice database relazionale la reazione sarebbe all'inizio oddio ma questo non è un supporto write once read many quindi come faccio ad avere la garanzia che non è stato manipolato beh è molto semplice basta l'auto ricevente l'auto authority l'auto investigatore calcolare l'hash value di quella base dati e verificare che quell'ash value è stato timestampato due anni prima sulla blockchain di bitcoin questo è un utilizzo che viene di cui per esempio alcune esprimitazioni sono state fatte in Italia partendo appunto da un paper che il sottoscritto e altri docenti del Politecnico di Milano hanno sottoposto all'European Security Market Authority proprio per spiegare e proporre e sostanzialmente pubblicizzare questo tipo di tecniche ma in generale e qui vi chiedo uno sforzo di comprensione del futuro in generale queste tecniche noiosissime mi rendo conto non hanno nulla del fascino dell'oro digitale non hanno nulla del luccichio di bitcoin sono però straordinariamente potenti sono straordinariamente potenti perché noi ci possiamo immaginare un futuro in cui qualunque rete transazionale ancora sostanzialmente la sicurezza del suo network nella rete bitcoin cioè prende una foto dello stato del sistema e notarizza quella foto sulla blockchain di bitcoin questo vuol dire che un ragazzo ugandese che creasse un network transazionale potrebbe garantire la sicurezza di quel network la non manipolabilità di quel network almeno rispetto a certi stati di riferimento di quel network in certi momenti del tempo semplicemente in qualche maniera parassitando la sicurezza della rete bitcoin quelli che Vitalik Buterin ama chiamare Stateful System with Global Memory potrebbero fare l'outsourcing della loro sicurezza nel network bitcoin e quindi ecco che noi possiamo vedere i minatori bitcoin come i fornitori globali worldwide di sicurezza decentralizzata in outsourcing un ultimo spunto futuristico se immaginiamo un mondo mondo in cui il problema energetico sia risolto e prima o poi verrà risolto perché il sole fornisce energia al nostro sistema solare da diversi milioni di anni e questa energia basta e avanza oggettivamente non siamo bravissimi nell'estrarre energia dal sole ma lo stiamo diventando sempre di più immaginiamo un mondo in cui tra 5, 10, 20 anni siamo indipendenti per tutte le nostre necessità energetiche dal sole già sta succedendo adesso voi sapete che durante la giornata ci sono dei surplus di energia perché i pannelli solari ne forniscono tante di quell'energia sostanzialmente non sappiamo cosa farcene è difficile estorare energia bene immaginate un mondo in cui avendo risolto i problemi energetici tutto il surplus di energia viene dampato viene gettato all'interno di una proof of work che garantisce la sicurezza di un network come bitcoin che cosa staremo realizzando sostanzialmente staremo realizzando il fatto che tutta l'energia in sovrappiù che abbiamo fornisce paradigmi di sicurezza per le nostre economie transazionali che non potranno essere manipolate perché per manipolarle bisognerebbe avere accesso a una quantità di energia superiore a quella che tutto il sistema mondo ha come energia in surplus rispetto al fabbisogno primario quindi scenari futuristici scenari assolutamente di là da venire ma straordinariamente pragmatici straordinariamente percorribili nella loro semplicità concettuale quando parliamo di notarizzazione parliamo sostanzialmente di quella che io amo definire la gioielleria dell'oro digitale così come l'oro fisico è oro è luccica indipendentemente dal fatto che noi lo utilizziamo per la gioielleria così bitcoin non ha bisogno della notarizzazione ma la gioielleria dell'oro fisico è straordinariamente efficace nel far cogliere a tutti la bellezza la luccicosità direi quasi dell'oro fisico così la notarizzazione e le tecniche di anchoring sono molto efficaci nel rendere evidente a tutti quale sia il luccichio dell'oro digitale bitcoin ok quindi notarizzazione come gioielleria dell'oro digitale insostanzialmente un asset che si è apprezzato oh scusate qui dovrei cambiare 3000 volte negli ultimi 6 anni sostanzialmente grazie alle rendite di signoraggio che derivano da quest'asset le rendite di signoraggio che derivano da quest'asset potranno regalare all'umanità la sicurezza di qualunque network transazionale che non è male non è male apriamo una parentesi velocissima però per dire di un altro punto tecnico dove l'incomprensione è grande e dove la notarizzazione di bitcoin in realtà risolve il problema una volta per tutte ed è quella del rafforzare le firme digitali voi sapete che noi veniamo da un mondo in cui la firma è una firma grafica fatta a mano su un pezzo di carta qualcosa di facilmente riproducibile duplicabile falsificabile e ci stiamo muovendo lentamente e fortuna che lo stiamo facendo lentamente perché vedrete lo stiamo facendo senza cognizione di causa ci stiamo spostando verso un mondo in cui invece della firma manuale usiamo la firma digitale e la bellezza della firma digitale è che non è è duplicabile se io ho la mia chiave privata a meno che non perdo la chiave privata nessuno può duplicare la mia firma digitale giusto? quasi non proprio così perché? ok io firmo digitalmente questo documento dopodiché prima o poi perdo la chiave o qualcuno me la trafuga e badate che quando si parla di sicurezza a livello criptografico noi non dobbiamo dire se perdessi la chiave oppure farò di tutto per non perdere la chiave ma noi dobbiamo valutare quale sarà il danno nello scenario che prima o poi statisticamente potrebbe realizzarsi quindi le tecniche di criptografia quando si parla di cyber security si parla di limitazione del danno in caso di disastro disastro un ladro mi ha rubato la chiave bene siccome io sono un ragazzo attento e previdente io pubblico il certificato di revoca di questa chiave che avrò preparato prima firmandolo con questa chiave in maniera tale che da questo momento del tempo in avanti qualunque documento venga firmato con questa chiave è evidentemente illegittimo perché io ho dichiarato in questo momento tramite un certificato di revoca che questa non è più la mia chiave ritorna? no sbagliato assolutamente sbagliato perché quando io perdo la mia chiave nulla impedisce agli agenti criminali di firmare documenti retrodatandoli e quindi non solo i documenti da qui in avanti ma anche i documenti da qui indietro non sono più validamente firmati da me perché nulla impedisce a chi è entrato in possesso della mia chiave di firmare un documento con una data nel passato quindi sostanzialmente non c'è più alcuna validità non solo per i documenti futuri ma anche per i documenti precedenti già esistenti i più smalizzati fra di voi diranno sì professore ma queste cose le sanno tutti tant'è che tant'è che si ricorre proprio al timestamping per evitare la cosiddetta retrodatazione il backdating quindi che cosa si fa? io non solo firmo un documento con la mia chiave privata ma chiedo anche la marcatura temporale di una central authority ottimo e se questo ladro anzi scusate non se ma quando questo ladro entrerà in possesso della chiave privata che la certification authority usa per fornire questa marcatura temporale anche se la certification authority emettesse il certificato di revoca della chiave che serve per la marcatura temporale non sono solo i documenti da lì in avanti ma anche i documenti precedenti che non sono validi perché io potrò usare la chiave digitale della certification authority per retrodatare le marcature temporali quindi così come la firma digitale non sta in piedi da sola quando perdo la chiave è compromesso il futuro ma anche il passato immaginate quindi tutti i documenti di compravendita tutti gli atti giudiziari che io ho firmato con la mia chiave privata tutti invalidi perché tutti falsificabili e quando uso un processo tradizionale basato su un authority centrale di timestamping di marcatura temporale anche quelle potranno scusate saranno prima o poi perché in cyber security si calcola qual è l'impatto in caso di evento disastroso saranno sostanzialmente invalidate stiamo costruendo un mondo digitale come un gigante dei piedi di argilla ma la soluzione c'è ed è quella di rafforzare le firme digitali con timestamping sulla blockchain io firmerò il mio documento se voglio perdere tempo userò anche una marcatura temporale di quelle tradizionali date da certification authority ma soprattutto open timestamping il mio documento nella blockchain di bitcoin se a quel punto un agente malevolo ruba la mia chiave e ruba la chiave con cui il marcatore temporale fornisce le marcature temporali da lì in avanti i documenti firmati con la mia chiave con la marcatura temporale della certification authority non saranno validi ma i documenti timestampati sulla blockchain restano validi perché non è possibile fare backdating sulla blockchain signori il risultato il risultato chiaro univoco indiscutibile è che senza il timestamping sulla blockchain bitcoin le firme digitali e le marcature temporali digitali che usiamo oggi nei nostri sistemi legali sono fragilissime e saranno con certezza compromesse è solo questione di tempo prima o poi un dipendente malevolo trafugherà le chiavi la nostra distrazione le cancellerà qualcuno forzerà un server ed entrerà dentro quindi tutto il sistema di firma digitale di marcatura digitale di marcatura temporale non sta in piedi non è future proof a meno che non lo ancoriamo sulla blockchain di bitcoin e scommetto che questo non ve l'aveva mai raccontato nessuno perché ciò per cui la blockchain è utile non lo capisce nessuno lo capiscono in pochissimi oggi e voi siete quindi un'audience straordinariamente avvantaggiata per essere in pole position nella comprensione di questi meccanismi abbiamo quindi sostanzialmente ottenuto una modalità di rafforzare la firma digitale tramite timestamping che non può essere retrodatato quindi possiamo scrivere oggi un messaggio fornire la firma digitale di questo messaggio e fornire la marcatura temporale su blockchain di questo messaggio e questo messaggio non potrà mai essere retrodatato se anche l'autore di questo messaggio dovesse perdere la sua chiave privata con cui firma il messaggio perché non usa come marcatore temporale una certification authority che a sua volta usa una chiave privata ma usa la blockchain di bitcoin chiudiamo la parentesi e parliamo di un altro grande tema che è il tema degli smart contract i contratti intelligenti automatizzati allora uno smart contract è la terminologia smart contract è stata inventata da Nick Zabo nel 1994 questo Nick Zabo è lo stesso Nick Zabo che ha inventato Bitgold che è il precursore di bitcoin è lo stesso Nick Zabo che qualcuno tanti pensano possa essere Satoshi Nakamoto uno smart contract è sostanzialmente una transazione computerizzata un protocollo di transazioni computerizzate che esegue i termini di un contratto in generale gli obiettivi sono soddisfare le condizioni contrattuali come i pagamenti la confidenzialità gli obblighi minimizzando le eccezioni sia accidentali che malevoli al tempo stesso minimizzando il bisogno di un intermediario fiduciale ora questi smart contract sostanzialmente hanno l'obiettivo economico di ridurre i costi di frode degli arbitrati i costi di enforcing e in generale i costi transazionali sono contratti smart che vogliono fare a meno delle legal entity o delle forze di polizia che debbano verificare controllare contestare obbligare certi comportamenti Zabo del 97 rilancia ancora questo concetto definendolo come una user interface un'interfaccia utente che combina a livello protocollare delle relazioni che vengono formalizzate e messe in sicurezza in un network computazionale sostanzialmente dice sono obiettivi e principi che derivano da principi legali e di teoria economica e di teorie di sicurezza protocollare ma che usando la crittografia e sistemi crittografici in generale possono sostanzialmente rendere mettere in sicurezza queste relazioni e questi obiettivi e qui c'è il link al paper l'idea dice Nick è sostanzialmente quella di embeddare includere delle clausole contrattuali in hardware e software in maniera tale che la rottura del contratto sia economicamente svantaggiosa e tecnicamente difficile o straordinariamente costosa in realtà Nick dice che il primo vero grande esempio di smart contract è la macchinetta distributrice ad esempio di questa bottiglietta d'acqua perché quando abbiamo acquistato questa bottiglietta d'acqua siamo entrati in un contratto paperless senza carta non abbiamo firmato un accordo semplicemente c'era una struttura hardware e software che stabiliva un contratto molto chiaro metti la monetina io tiro fuori la bottiglietta ok quindi è chiaro che questa è la forma semplice con cui pensare agli smart contract sebbene uno possa dire è un contratto basato sulla matematica con un sistema di settlement basato sul software automatizzato che però è questo il punto chiave non richiede alcun ricorso a sistemi legali o azioni umane io metto la monetina la bottiglietta esce senza aver fatto un contratto legale e senza che un essere umano debba fare in quel momento un'azione questa è l'automatizzazione da smart contract in generale smart contract possono efficacemente gestire smart properties cioè dei token digitali che possono essere scambiati programmaticamente usando gli smart contract è sempre Vitalik Buterin che racconta di come un programma esegue del codice e ad un certo punto automaticamente validando una condizione determina che un certo asset deve andare a una persona o un'altra persona o se immediatamente sia da ricompensare qualcuno che ha spedito o combinazioni di questo cioè sostanzialmente l'automatizzazione degli smart contract che abbiamo visto nella vending machine se invece che governare una bottiglietta d'acqua cioè un oggetto fisico governa una smart properties un token digitale ovviamente la digitalizzazione permette sostanzialmente di il compounding in qualche maniera la composizione la magnificazione delle potenzialità che questi smart contract hanno ed ecco che allora non dobbiamo però mai dimenticarci che un protocollo di smart contract deve sempre sostanzialmente dimostrarsi robusto contro il vandalismo semplice provate a spaccare la vending machine o il vetro della vending machine è estremamente complicato e anche contro il vandalismo sofisticato quello che provate a cambiare il programma il firmware di quella vending machine lo sforzo tecnico è sostanzialmente troppo alto e non ricompensato da le poche bottigliette d'acqua che potete tirar da lì dentro inoltre l'idea degli smart contract si potenzia se non solo usiamo smart properties invece che oggetti fisici ma se poi ricorriamo agli oracoli oraclize è un'azienda italiana leader nel settore che che cosa fa prende delle informazioni dal mondo magari attraverso delle web API che ne so quanti millimetri di pioggia sono caduti in un certo posto un aereo è atterrato meno in orario le elezioni americane sono state vinte da Hillary Clinton o da Donald Trump e trasmette questa informazione a una blockchain la blockchain di per sé non ha nessuna consapevolezza di dati del mondo esterno ma se un fornitore di notizie affidabile posta inoltre scusate questo evento la notifica di questo evento alla blockchain ecco che uno smart contract può innescare il pagamento o il trasferimento di una smart properties condizionato all'evento del mondo esterno ora chiaramente se il back office che va dalle transazioni viene chiamato mining minatori è evidente che un'agenzia di informazioni in questo caso viene chiamata oracolo in questo linguaggio sempre molto suggestivo della blockchain per chi volesse approfondire vi rimando al sito di Oraclise in generale quello che stiamo disegnando è un mondo dove ci sono agenti autonomi cioè dei programmi software creati per task specifici capaci di fare e ricevere pagamenti usando bitcoin o in generale criptovalute e sì perché per la prima volta nella storia un software può gestire una certa quantità di ricchezza in totale autonomia algoritmica e immaginate un domani un software che dovesse assumere degli esseri umani per far svolgere agli esseri umani quel tipo di attività che un software non può svolgere e che dovesse retribuire mensilmente pagare un salario a degli esseri umani parliamo di decentralized autonomous organization DAO ma questo scenario futuristico dove siamo partiti dagli smart contract di Nick Zabo che Nick avrebbe dovuto chiamare dummy contract cioè contratti semplici o contratti sciocchi perché si tratta di forme di automatizzazione siamo arrivati tramite smart properties oracoli e decentralized autonomous organization a questi scenari futuristici di un mondo nuovo mondo nuovo che stiamo già sperimentando DAO l'anno scorso viene lanciato sulla piattaforma Ethereum il primo grande progetto di smart contract un leaderless venture capital cioè l'idea di un venture capital che investe quindi in startup ma che non ha esseri umani che lo gestiscono chi lo gestisce? lo gestiscono coloro i quali mettono i fondi all'interno di questo venture capital all'interno di questa DAO che con grande arroganza con l'arroganza tipica dell'ecosistema Ethereum si era proprio chiamata DDAO la Decentralized Autonomous Organization per eccellenza bene che cosa diceva DDAO diceva che i termini di DDAO sono scritti nel codice dello smart contract nulla può modificare o aggiungere degli impegni aggiuntivi o delle garanzie aggiuntive oltre quelle specificate nel codice dello smart contract noto come DDAO il codice e legge bene in base alle feature del codice c'è stato un investitore scusate c'è stato un imprenditore il quale ha letto con attenzione il codice ha scoperto che c'era una feature con cui poteva far finanziare arbitrariamente la sua startup ha creato la sua startup e ha drenato da gli oltre 160 milioni di dollari che erano stati raccolti in questo esperimento folle ha drenato più di 50 milioni di dollari a vantaggio della sua startup ovviamente la cosa ha creato un certo scombussolamento tanto che il protocollo Ethereum è stato modificato per cancellare per rendere invalida questa singola transazione ma come scusatemi se abbiamo detto che il codice legge quella non era una bug quella era una feature qualcuno ha semplicemente letto con più attenzione la legge il contratto qualcuno ha letto lo smart contract e ne ha usato una delle sue caratteristiche a che titolo il banchiere centrale Vitalik Buterin ha deciso che invece The Dow andava salvata che bisognava cambiare il protocollo di tutti per cancellare quella singola transazione con un atto di imperio e di arbitrio assolutamente sconvolgente si è trattato sostanzialmente di un banchiere centrale Vitalik Buterin che ha fatto il bail out di una azienda in cui guarda caso lui e i suoi amici avevano messo i loro soldini e quindi non andava bene che avendo scritto male il contratto qualcuno avesse fatto l'enforcing di quel contratto in un modo che a loro non piaceva ma che era perfettamente legittimo perché ripeto nessuna garanzia o obbligazione aggiuntiva si poteva mettere al di sopra di The Dow oltre quelle previste dal codice sorgente e non è andata così allora qual è la morale gli smart contracts sono una forma di automatizzazione e se il codice diventa legge attenzione che poi non potete fare come The Dow e dire oh questo è stato un furto no quella è stata l'applicazione di un contratto quindi improved automation that's fine ok migliorare l'automatizzazione ma forme di automatizzazione estrema fate molto attenzione specialmente se riguardano l'automatizzazione di pagamenti e qui per i miei studenti del corso di arrivati tornate un attimo indietro all'idea del clearing del margine iniziale e del margine variazionale pagato in automatico con meccanismi come The Dow e pensate quale sicurezza avrebbe il mondo finanziario oppure fate mente locale alla scorsa lezione e capirete perché quando The Dow è stata lanciata tantissimi hanno scritto tantissimi hanno scritto dicendo professore la sua idea di banca centrale all'algoritmica è irrealizzabile non ha visto The Dow e io ho degli email all'ora in cui dicevo ma guardate sinceramente sono scettico che The Dow possa funzionare era un giudizio solamente di pancia non scientificamente fondato ma il tempo mi ha dato ragione e quindi è per questo che continuo a ripetere che pensare di fare una banca centrale algoritmica beh mancano ancora alcuni pezzettini tecnologici o per farlo in maniera non fiduciale muoviamoci all'ultimo punto della lezione il gran finale cioè affrontiamo per le corna questo toro senza paura anche perché è un toro che non esiste è un toro evanescente è un tono fatto solo di fumo è una proiezione olografica di desideri di wishful thinking di tanti la cosiddetta distributed ledger technology questa meravigliosa chimera inesistente allora innanzitutto quando di fronte alle critiche del sottoscritto di tanti altri il mondo o perlomeno i più avvertiti hanno iniziato a capire che non si poteva parlare di blockchain senza un native digital asset allora alcuni si sono spostati gli hanno detto sì sì ma noi infatti non vogliamo usare blockchain technology noi vogliamo usare distributed ledger technology cioè una tecnologia basata solo sul fatto di un registro pubblico condiviso ed R3 uno dei consorzi uno dei campioni di distributed ledger technology ha proprio preso le distanze in maniera chiarissima abbandonando blockchain e venendosi verso il mondo DLT e potete vedere ci sono link a articoli del suo amministratore delegato del capo della ricerca addirittura dei goffi tentativi di rincorrere queste prese di posizioni e di cancellare dall'account twitter i riferimenti a blockchain perché R3 non usa blockchain dall'altro lato però c'è gente come o scusate c'è gente come Vitalik Buterin che dice nel mondo reale nello spazio permissioned quindi quello dove c'è un'autority centrale che dice chi può fare da nodo di una rete blockchain e DLT sono sostanzialmente sinonimi anche perché quando parliamo di blockchain Vitalik rispondeva al sottoscritto in un dibattito online non parliamo certamente di una stupida sequenziale struttura dati come se tutte le future versioni della blockchain dovessero assomigliare alla blockchain di bitcoin no noi parliamo sostanzialmente di una stateful decentralized application cioè di applicazioni decentralizzate ma che hanno uno stato vi ricordate che bitcoin è stateless il linguaggio di scripting è fort like no la rete bitcoin non ha mai uno stato non ha mai una global persistent memory cioè insomma Vitalik vede l'applicazione blockchain e DLT come questo grande computer globale e insomma questo è il motivo per cui nel dibattito pubblico DLT non è blockchain ma in realtà spessissimo le due cose vengono usate come sinonimi giusto per aumentare la confusione e offuscare la comprensione degli interlocutori per evitare che capiscano che si tratta semplicemente di bufale allora distributo le technology di che cosa si tratta? si tratta di un registro condiviso permissioned e privato quindi familiarizzate con questa nomenclatura perché private permissioned ledger sono le cosiddette DLT mentre Bitcoin è chiaramente una public permissionless ledger ok? quindi le DLT sono registri condivisi permissioned e privati che sono osservabili da diverse controparti queste controparti devono essere state autorizzate per poter vedere quel registro tipicamente non hanno non vogliono avere un asset digitale nativo né tantomeno una cryptocurrency devono preservare la privacy la confidenzialità e quindi le transazioni dovrebbero essere trasparenti soltanto per le controparti che entrano in quella transazione quindi non come la blockchain di Bitcoin e usano o vorrebbero usare mezzi criptografici sistemi criptografici per verificare che un database implicito e vediamo meglio che cosa vuol dire implicito nel ledger possa raggiungere il consenso lo status di consenso che diverse controparti hanno quindi è un registro pubblico scorrendo il quale il mio database può raggiungere lo stato che so essere lo stato condiviso da tutti i partecipanti a quel network il potenziale se leggete la stampa è quello di risparmiare miliardi di costi nei mercati finanziari di abilitare l'innovazione sulla supply chain cioè sulla catena attraverso cui i beni vengono prodotti le catene di offerta che vanno da un'azienda a un'altra azienda i processi produttivi possono addirittura essere utilizzati per la gestione del power grid cioè delle reti elettriche possono qualcuno propone di utilizzare addirittura per la sicurezza dell'arsenare nucleare e possono certamente sostituire il catastro in tutto il mondo per affermare con sicurezza a chi appartiene un certo un certo bene o una certa come si dice real estate possono essere utilizzati per processi di identità digitali ma insomma come dico io spesso le applicazioni della DLT sono innumerevoli io stamattina ho fatto quella azione con delle uova strapazzate con una blockchain e vi garantisco che la capacità della blockchain di strapazzare le uova è straordinaria insomma queste l'elenco di queste potenzialità della blockchain sono tutte veramente spaventosamente implausibili ma per darvi l'idea di implausibilità e per darvi l'idea soprattutto della mancanza di vergogna che i promotori di queste sciocchezze hanno io vi invito a guardare il video con cui nel recente World Economic Forum di Davos è stato promosso l'utilizzo delle distributed ledger technology persino il titolo del video che non ho inventato io è il vero titolo del video la dice tutta la blockchain sta arrivando e potrebbe salvare delle vite il linguaggio qui è messianico è salvifico d'accordo? nulla di più che salvarvi la vita i DLT possono essere usati per qualsiasi cosa forse addirittura un giorno ci salveranno anche l'anima penso che questo sia il prossimo passo in realtà in tutto questo in tutto questo gli use case mancano non c'è nessuno use case funzionante a parte lo use case della notarizzazione che vi ho documentato con anche dei link a esperimenti fatti da una primaria banca italiana gli use case di applicazione delle DLT in produzione non ce ne sono non ce ne sono perché quando si arriva in produzione c'è sempre gente che fa delle domande intelligenti oddio intelligenti delle domande semplici semplici del tipo ma quello che voi proponete di fare con una DLT lo posso fare con un database perché se lo posso fare con un database meglio usare una tecnologia rodata da diversi decenni che è una tecnologia sperimentale che è qui con noi da un paio d'anni bitcoin da nove anni ma qui parliamo della blockchain quindi le applicazioni non monetarie di bitcoin che tipo di consenso è necessario per la mia applicazione perché se il consenso deve essere distribuito blockchain potrebbe anche andare bene se il consenso è bilaterale o se addirittura il consenso è centralizzato beh basta tornare le database che tipo di sicurezza è richiesta perché se quello che io voglio è una sicurezza preventiva abbiamo visto durante il corso che la criptografia che sta sotto la blockchain di bitcoin rende impossibile la creazione di transazioni invalide quindi se lo scopo è bloccare transazioni invalide è ottimo ma se il tipo di sicurezza che vogliamo è una sicurezza indagativa cioè vogliamo vedere che cosa è successo beh già lì la blockchain bitcoin è trasparente ma come ho avuto modo di dire questa trasparenza è più una bug che una feature non scommetterei che in futuro resterà così trasparente ma soprattutto se la sicurezza che vogliamo è correttiva cioè la capacità di correggere transazioni invalide beh no allora la blockchain non è assolutamente adeguata perché è una struttura dati che si presta all'immutabilità tanto meglio usare i database ma perché torniamo sempre al database beh perché sostanzialmente una qualunque blockchain sostanzialmente implica presuppone o delinea o realizza un database perché noi possiamo vedere la blockchain come semplicemente un log di update sequenziali che devo applicare a un database vuoto per portarlo a un certo stato del sistema che è condiviso da tutti ognuno di noi quando lancia bitcoin core su un suo computer per la prima volta istanza un database vuoto dopodiché scorre la blockchain e la blockchain dice quali modifiche sequenziali quindi ordinate vanno applicate a questo database per arrivare una volta che abbiamo processato tutta la blockchain fino all'ultimo blocco allo stato di quel database che è condiviso tra i nodi della rete ma guardate che nel caso per esempio di bitcoin c'è davvero il database lo UTXO database cioè il database dei TXO dei transaction output ancora spendibili abbiamo visto è implementato in bitcoin core usando proprio leveldb database ok non è un database relazionale è un database chiave valore molto semplice quindi insomma dietro una blockchain c'è sempre nativamente un database quindi quando vi dicono passiamo alle blockchain così ci liberiamo dei database questa è una grandissima frottola e allora guardiamo un po' meglio i protagonisti di questo mondo di strip del ledger technology ci sono diversi consorsi facciamo dei commenti su alcuni tra i peggiori e tra i più seri di questi consorsi perché anche qui ovviamente si differenziano un po' partiamo da R3 R3 ha un suo sistema che è sviluppato che si chiama Corda e se voi andate a guardare quando hanno introdotto Corda dicono proprio che R3 che era stata originariamente presentata come un progetto che doveva portare le blockchain alla finanza bene Corda è una distributed ledger platform non è una blockchain cioè insomma il marketing con cui R3 si è presentata alle diverse banche da cui ha raccolto soldi era un marketing quanto meno inesatto diceva vi porto la tecnologia blockchain e in realtà portava una cosa diversa che è una distributed ledger platform in accordo con Gedal Brown secondo Gedal Brown il chief technology officer di R3 Corda è ispirata e cattura i benefici di un sistema blockchain senza quelle scelte di design che rendono la blockchain inappropriata per il mondo finanziario in particolare quindi Corda vuole implementare tutta la business logic la legal pros eccetera eccetera tutto quello che serve per il mondo finanziario e uno dice vabbè ma la cosa interessante sarà andiamo a vedere che algoritmo di consenso distribuito utilizzano no? no ma Corda è innovativa perché Corda permette addirittura più servizi di consenso mica un solo algoritmo di consenso più di uno e caspita qui il mio entusiasmo cresce veramente tantissimo tranne a scoprire qualche frase dopo che il consenso è è un servizio di notariato pluggable inseribile in Corda cioè che un network Corda si può contenere molteplici servizi di notariato ma che quindi Corda non è legata ad alcun algoritmo di consenso cioè detto in altri modi Corda non ha alcun algoritmo di consenso distribuito ma dice noi possiamo usare tutti quelli che ci sono e abbiamo imparato in questo corso che gli unici algoritmi di consenso che conosciamo sono il consenso centralizzato della Central Counterparty e per ora il consenso distribuito di Satoshi Nakamoto ed in mezzo non c'è niente ma loro sono pronti per quando ci saranno nuovi algoritmi di consenso distribuito per intanto ci danno una machinery il cui utilizzo è praticamente limitato se non impossibile la cosa più divertente è quando Jan Grieg nel lancio di Corda sul suo blog Jan Grieg lavorava all'epoca per R3 ed è un crittografo abbastanza famoso è colui che ha inventato i Riccardian Contract addirittura è giunto a scrivere in teoria perlomeno in teoria Corda potrebbe felicemente usare bitcoin come servizio di notariato a patto di scrivere l'interfaccia di notarizzazione adeguata che cosa stanno dicendo questi signori che il loro sistema transazionale potrebbe essere ancorato nella blockchain di bitcoin come spiegato pochi minuti fa all'interno degli ambiti di ancoraggio e di notariato e poi soprattutto ecco che il velo viene tolto e poche settimane fa pochi giorni fa in un post di Mike Kern il lead platform engineer di R3 viene fuori che Corda differisce dalle altre piattaforme in molti modi uno dei più visibili è che il nostro uno dei più visibili è il nostro utilizzo di tecnologia di database relazionali e sì perché i nodi Corda hanno alle loro spalle un database relazionale oh toh eccoli qui di nuovo vi ricordate forse che alla lezione introduttiva abbiamo detto che i distributed ledger non sono altro che i database on cryptographic steroids sono database pompati con steroidi criptografici tutta questa grande machinery è soltanto una tecnologia evolutiva della tecnologia dei database sostanzialmente quello che sta cercando di fare con Corda che sta cercando che R3 sta cercando di fare con Corda è di riscrivere il protocollo Swift appunto on cryptographic proof steroids è un blef che Goldman Sachs ha capito che Santander ha capito che Morgan Stanley ha capito che JP Morgan ed altri hanno capito ed infatti hanno lasciato R3 che resta comunque un consorzio di 80 e più banche mondiali ma le più grandi se ne sono andate cogliendo che il blef era insostenibile alcune di queste banche però hanno lanciato un'altra consorzio la Ethereum Enterprise Alliance il giorno del lancio qualcuno ha detto che la tecnologia Ethereum è più difficile da corrompere o hackerare perché è straordinario perché si basa perché la sua resilienza è basata su diverse persone su diversi nodi piuttosto che su una singola authority ma davvero? cioè qui qualcuno sta pensando di usare una piattaforma che è quella dove abbiamo visto l'incidente di Dadao che è quella che ha la dittatura benevola di Vitalik Buterin che dice che cosa si fa e che cosa non si fa quella che ha visto molteplici al fork alcuni accidentali alcuni volontari è quella che è stata per lungo tempo sotto un denial of service attack che ne ha impedito il funzionamento cioè hanno preso sostanzialmente uno scolapasta tutto bucato e dicono che però è straordinariamente affidabile per veicolare i flussi di un sistema finanziario vedremo che cosa riusciranno a fare per intanto non è che dovete credere al professor Ametrano Vlad Zamfir che è il consensus algorithm researcher presso l'Ethereum foundation twitta lo scorso marzo twitter lo scorso marzo Ethereum non è né sicuro né scalabile è una tecnologia sperimentale ed immatura non affidatevi ad Ethereum per applicazioni mission critical a meno che non siate pazzi a meno che non sia necessario assolutamente necessario ripeto questa non è l'opinione di Ferdinando Ametrano questa è l'opinione del consensus algorithm researcher dell'Ethereum foundation cioè di colui che sta lavorando su un project Caspar che è l'idea di far transire Ethereum da proof of work a proof of stake va bene ci sono per fortuna attori leggermente più seri digital asset holding è stata lanciata da Blightmaster Blightmaster è il JP Morgan executive che ha inventato i credit default swap Blightmaster è la donna che all'inizio del 2016 ha rifiutato l'offerta di Barclays di andare a gestire tutto l'investment banking di Barclays per rimanere in digital asset holding la signora è molto decisa e ha le idee molto chiare quando in un confronto diretto domanda e risposta a gennaio 2017 a Londra vi ho chiesto che tipo di consensus avrebbero usato per la loro piattaforma ho detto noi non usiamo distributed consensus perché noi lavoriamo con una central counterparty quindi l'unica forma di consenso di authority e di consenso legittima che deve fornire una evidenza criptografica delle transazioni è la controparte centrale ok via distributed consensus ma allora io l'ho incalzata ho detto mi scusi ma allora che cosa resta del disegno di Nakamoto e la signora ha risposto con molta chiarezza nulla noi del disegno di Nakamoto usiamo soltanto il fatto soltanto l'idea soltanto la suggestione il suggerimento del fatto che un registro condiviso possa essere utile ed infatti digital asset holding non cavalca come R3 il marketing della blockchain ma è da questo punto di vista straordinariamente affidabile sull'idea di lavorare con i suoi investitori di CCC e Australia Stock Exchange nei processi di post trading in cui sostanzialmente quello che vogliono ottenere è la central counterparty dà evidenza criptografica su un ledger sequenziale delle transazioni avvenute ne dà l'hash value l'hash value della transazione è un hash value che è riconoscibile solo per chi ha fatto la transazione quindi se un'istituzione finanziaria fa una transazione con una controparte centrale riconoscerà l'hash di quella transazione sul ledger sequenziale le altre controparti non saranno in grado di vedere i dettagli di quella transazione se a fine giornata sul ledger sequenziale sul registro distribuito una financial institution trovasse meno hash value del numero di transazioni che ha fatto chiama la controparte centrale dice cosa è successo a questa transazione ne trovasse una in più chiamerebbe ancora la controparte centrale direbbe quel hash value di quale transazione è perché io non la riconosco quindi è semplicemente un registro che notifica che cosa è avvenuto e permette in qualche maniera di ottenere il fatto che se siamo d'accordo con la storia transazionale descritta da quel registro condiviso siamo sicuri che i nostri database indipendenti sono riconciliati questa è l'idea molto semplice che cosa si può imparare da digital asset holding l'idea di abbandonare marketing blockchain perché è improponibile l'idea di assemblare un solido team tecnologico tramite acquisizioni sul mercato di startup esistenti affidarsi a consenso centralizzato focalizzarsi su ben definiti use case lavorando fondamentalmente come sta facendo digital asset holding per i suoi investitori cioè per chi ha investito soldi all'interno della startup e non come fa R3 facendosi dare i soldi dei suoi clienti prospettici digital asset holding si è impegnata a delle delivery nel 2017 ai suoi stakeholder sostanzialmente consegnando efficaci database on crypto steroids ok poca fuffa poco marketing cose semplici cose che sono un'evoluzione della tecnologia dei database ovviamente se la vediamo così capiamo benissimo che i permissioned che private permissioned distributed ledger rappresentano al meglio un'evoluzione incrementale ma di certo non un'innovazione dirompente avranno un ben piccolo impatto se lo avranno potremmo dire in qualche modo che nell'esplosione nucleare che rappresenta bitcoin c'è un fallout radioattivo nelle settimane nei mesi negli anni successivi che è la criptografia applicata ecco il mondo e il mondo finanziario in particolare stanno capendo che la criptografia applicata o che certe tecniche criptografiche possono utilmente rafforzare dei processi di business un po' come delle tecniche criptografiche sulla blockchain di bitcoin che badiamo è l'unica sicura perché è l'unica che ha il native digital asset cioè l'incentivo economico che la mette in sicurezza rende possibile irrobustire business practice processi di business come la firma digitale e la marcatura temporale che oggi sono piuttosto fragile e inconsistenti come dice Brian Ford dell'MIT una blockchain privata è come intranet mentre le blockchain pubbliche sono come internet il mondo è cambiato è stato cambiato da internet non dalle intranet le società saranno particolarmente disrupted no da le blockchain private non dalle blockchain pubbliche e oppure potremmo commentare come commenta Andrea Santonopulos most of the blockchain stuff being sold to banks is insecure snake oil è olio di serpente voi sapete che nel west nel far west c'erano questi venditori che vendevano le bottiglie di olio di serpente le cui capacità taumaturgiche le cui potenzialità venivano descritte come essere assolutamente straordinarie ovviamente non era olio di serpente e se anche lo fosse stato non aveva nessun particolare beneficio ecco oggi molta della tecnologia blockchain o delle DLT che vengono vendute alle banche è proprio questo marketing fraudolento tipico dal far west e che all'epoca era questo insecure snake oil l'innovazione dirompente invece è quella che hanno sperimentato sulla propria pelle Kodak Blackberry e Blockbuster che non hanno visto arrivare la fotografia digitale o gli smartphone o lo streaming e hanno imparato a loro spese che non cogliere i trend innovativi ti mette fuori mercato mentre altri attori hanno usato l'innovazione per costruire nuovi business bene se noi pensiamo all'industria dell'intrattenimento potete ricordare con quali energie con quante risorse l'industria dell'intrattenimento ha lottato contro gli mp3 e in generale contro la pirateria musicale l'effetto netto qual è stato? che oggi noi non compriamo mp3 da sony o da universal ma li compriamo da google da amazon e da itunes perché un'industria che ha perso tempo a contrastare un'innovazione che non capiva ha perso il treno e quindi oggi è intermediata non vende direttamente un bene che avrebbe potuto vendere tranquillamente semplicemente in maniera diretta e allora alla fine di questo corso ci portiamo a casa una certa attenzione rispetto a una narrativa che troviamo abbastanza sconcertante la narrativa che nel 2014 parlava solo e soltanto di bitcoin che nel 2015 grazie anche a quella copertina dell'economist parla di blockchain technology che nel 2016 è stata dominata da distributo del ledger bene mi è capitato di twittare alla fine del 2016 che il 2017 sarebbe stato l'anno di database on cryptographic steroids e infatti è di qualche settimana fa la rivelazione che R3 è basata su database e che il 2018 sarà di nuovo probabilmente l'anno in cui torneremo a parlare di bitcoin perché il mondo avrà capito un po' di più o un po' meglio da un lato che le DLT sono aria fritta e dall'altro che bitcoin è oro digitale in bibliografia vi segnalo tre articoli uno tecnico per il mondo dell'appunto European Security Market Authority una proposta per la European Security Market Authority e due editoriali sui temi affrontati in questa lezione ma le conclusioni sono la blockchain ha bisogno di un asset digitale nativo come bitcoin bitcoin è oro digitale che può essere altrettanto rilevante nella storia di una civilizzazione digitale quanto l'oro fisico lo è stato nella storia della nostra civilizzazione della moneta e della finanza il timestamping e l'anchoring sono delle straordinarie promettenti applicazioni di cui non abbiamo ancora apprezzato fino in fondo il potenziale mentre in generale sui distributed ledger c'è un'uforia che genera delle aspettative infondate non c'è ancora nessuna implementazione di riferimento e soprattutto settlement istantaneo cash on the ledger registro condiviso automatizzazione estrema sono cose difficili da ottenere e soprattutto in alcuni casi addirittura pericolose o cose che non vogliamo ottenere per ora sarebbe molto meglio se i contratti smart se gli smart contract non fossero troppo smart ma fossero un po' dammi fossero semplici fossero sciocchi difficilmente dirompente la distributed ledger technology potranno essere al massimo una tecnologia evolutiva della tecnologia database e con questo io vi ringrazio è stato un lungo percorso la lezione finale spero che fondata sulla comprensione tecnica che questo corso dovrebbe avervi fornito sia a questo punto più apprezzata e vi permetta nel prosieguo di discriminare tra le grandi opportunità che nel far west dell'oro digitale si aprono e che si sintetizzano fondamentalmente nel nome bitcoin e soprattutto invece fare attenzione a tutto quel mondo di nani ladri ballerine che popola questo far west fate attenzione perché si va a letto la sera e al mattino i nostri compagni di avventura sono partiti senza di noi o hanno venduto l'equipaggiamento che serviva per la nostra corsa all'oro i più pericolosi sono quegli esperti o presunti tali che magari con il loro silenzio complice lasciano che persone ingenue si avventurino lungo sentieri dove già banditi sono appostati per fare man bassa e derubarvi se però riuscirete a orientarvi in questo far west dove non ci sono le mappe dove la legge non è ancora arrivata dove la ferrovia è lungi da arrivare se saprete muovervi con intelligenza con tempismo e con avvertenza sicuramente siete i pionieri di un cambiamento epocale della nostra storia vi ringrazio ci sono domande? prego una domanda sul timestamping e metal3 si adesso che attraverso il metal3 è possibile scalare identicamente possiamo mettere arbitrariamente tanti file assieme per fare il timestamping ma se io poi voglio verificare che un mio file sia stato inserito all'interno di metal3 devo avere tutta la struttura le faccio vedere se torniamo sul sito di open timestamp e io guardo l'ultima verifica che è andata con successo e faccio info vedo sostanzialmente che vedo sostanzialmente che il mio documento che parte con 610 e finisce con 25 il swash value viene appeso prepeso appeso in un merkle tree quindi c'è tutto il percorso all'interno del merkle tree e poi arriva alla richiesta di attestazione a un certo server oppure lo vediamo anche qui appeso prepeso appeso e arriva alla richiesta di attestazione di un altro server questo secondo server è stato più fortunato è stato il primo ad attestarlo e quindi non solo vediamo la root della merkleizzazione dei documenti ma vediamo anche il path all'interno del merkle tree delle transazioni bitcoin a questo punto che ci porta fino alla fino alla arriviamo fino alla radice fino alla merkle root delle transazioni bitcoin e quindi il nostro documento è stato attestato all'interno all'interno del blocco 471.809 ok quindi abbiamo sostanzialmente tutto il percorso nel merkle tree per arrivare alla merkle root della nostro albero di documenti e poi tutto il percorso nel merkle tree delle transazioni bitcoin per arrivare alla merkle root di quelle transazioni nel blocco quindi in qualche modo il certificato il timbro che otteniamo il time stamp che otteniamo è esattamente il percorso nel merkle tree dei documenti e il percorso nel merkle tree delle transazioni che dimostra incontrovertibilmente che il nostro documento è stato time stampato all'interno di quel blocco della blockchain di bitcoin ma il percorso i due percorsi sono di gravità accessibili sono ricostruibili oppure bisogna conoscere tutti i tenimenti del merkle tree per poterlo no allora quel file che abbiamo visto nella descrizione scompattata la ricevuta di notarizzazione che io ottengo è esattamente il percorso quindi dice della mia foglia qual è la foglia a fianco con cui devo compormi come coppia e poi dice qual è la foglia a fianco che devo compormi e quando parla di prepend o append dice proprio se io sono il nodo di destra o il nodo di sinistra e quindi mi combino con qualcosa che ha la mia sinistra o con qualcosa che ha la mia destra per salire nell'albero e ovviamente è un protocollo completamente documentato online potrà approfondire tutti i dettagli tecnici che vuole altre domande allora in un kit di stamattina ho letto che col quando ha fatto l'Europa con l'euro ha pensato di fare l'euro ha fatto un atto di forza e alcuni nel mondo bitcoin hanno detto è proprio ciò di cui questa sorta di dittatura dove un uomo decide del destino economico finanziario di 450 milioni di persone è proprio di questo che noi vogliamo liberarci di questa minaccia io ho risposto che in realtà forse all'epoca quando fu ha fatto questo non c'erano soluzioni migliori all'epoca per evitare i rischi di guerra oggi si parla ancora di rischi di guerra in questo periodo perché in Europa cominciano a essersi sentimenti di disgregazione quanto potrebbe una soluzione basata su higher money e banche centrali più banche più monete risolvere i problemi economici in Europa che va più velocità che non riesce a avere una politica più scarsa la risposta sincera è non lo so ma non è una risposta in ritirata la cosa interessante è che problemi nuovi problemi sfidanti abbiano un ventaglio di soluzioni percorribili variegato cioè quello che oggi bitcoin rende possibile è moneta privata moneta privata per me non vuol dire la scomparsa la distruzione la sostituzione di monete concorso legale ma vuol dire l'affiancamento di ipotesi di moneta gestita in maniera algoritmica non discrezionale a fianco di monete invece gestita in maniera discrezionale ricordiamoci sempre che Helmut Kohl non era certo Adolf Hitler cioè Helmut Kohl godeva del supporto elettorale dei suoi elettori e quindi ha prima riunificato la Germania e poi ha impostato un cammino verso l'unità europea che era un cammino voluto da diversi esponenti politici che nasce dopo la seconda guerra mondiale in paesi diversi come l'Italia la Francia la Germania l'Inghilterra in qualche modo anche quindi era sostanzialmente un processo che non è stato imposto di forza un processo democratico che potrà aver avuto potrà avere in futuro alcuni limiti l'importante è che quando si tratta della moneta cioè di quel processo storico che per duemila anni abbiamo affidato a re, imperatori signori e banchieri centrali oggi ci rendiamo conto che ci sono nuove possibilità che si affiancano che non devono necessariamente sostituire ma sono alternative praticabili permettendo quello che ripeto era il sogno aiechiano di concorrenza libera tra monete in cui prevalga la migliore moneta io quindi non vedo un mondo in cui la competizione è una competizione ostile che vuole la morte dell'avversario ma in cui la competizione è una competizione fair di mercato in cui prevale il migliore e in cui magari prevalgono tre o quattro cioè non c'è un vincitore che prende tutto ripeto poi la portata di queste domande e dello sfondo politico culturale e filosofico di queste domande sarebbe arroganza da parte mia pensare di poter rispondere con risposte nette quello che è utile a mio avviso è che per esempio sui temi di formazione ed educazione ci siano sempre più persone competenti sugli aspetti di queste rivoluzioni tecnologiche per poter trovare le risposte che io magari oggi non ho alle sfide di domani altre domande? bene allora direi che concludiamo qui per email vi ho già dato tutti i dettagli quindi quelli che hanno fatto gli assignment o che completano gli assignment nel giro di due giorni non ci sono altre deroghe possono ottenere un certificato di partecipazione al corso se sono studenti dell'università Bicocca ovviamente avranno un certificato di Bicocca o addirittura se sono studenti dell'università Bicocca possono anche chiedere i due certificati scusate i due CFU i due crediti formativi associati a questo corso mettetevi in contatto con me via email e sostanzialmente smaltiamo tutte queste pratiche è veramente apprezzatissimo qualcuno l'ha fatto anzi mi scuso che non ho ancora risposto a quelli che l'hanno già fatto mi hanno già dato correzioni suggerimenti consigli domande domande a cui sarà risposto a tutte le domande che mi mandate ovviamente io tento sempre di migliorare i miei corsi quindi il feedback che mi date sul corso su di me sul materiale sui libri che sono stati proposti sulle singole lezioni è apprezzatissimo vi ho mandato un modulo se lo volete compilare e farmelo avere vi ringrazio bene ci sentiamo prossimamente grazie a tutti grazie a tutti